Assessore Schauli, da tempo si discute sul tiramisù, prodotto del fluo di Venezia Giulia. Oggi ci sono delle novità importanti. Le novità che ci riempiono di soddisfazione, anche attraverso un percorso fatto. Il Ministero ha prima decretato, alcuni giorni fa, è stato già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo elenco dei prodotti tradizionali agricoli delle diverse regioni e su nostra richiesta il tiramisù è stato inserito proprio in questo elenco. Quindi anche il Ministero riconosce l'origine del tiramisù, è stato inserito in questo elenco che rappresenta tutti i prodotti più tradizionali, più tipici, più storici e quelli che contraddistinguono un territorio e quindi rappresenta sostanzialmente una volta di più la volontà di valorizzare i nostri prodotti e di renderli soprattutto anche identificati con il nostro territorio. Quindi, ripeto, un decreto è una Gazzetta Ufficiale che dice che il tiramisù oggi è inserito nell'elenco dei prodotti tradizionali agricoli del Friuli Venezia Giulia. È un riconoscimento che si può far fruttare, Assessore? Ma io credo di sì, ci sono state grandi discussioni, io poi non sono mai per gli antagonismi, io sono convinto che la storia è quella che ci insegna da dove nascono alcuni prodotti, ma io penso che questo prodotto che ormai è conosciuto in tutto il mondo sia stato importante e sia importante far percepire i cittadini che arriva dalla nostra regione, che arriva dalla capacità prima a Pieris e poi a Tolmezzo di essere lungimiranti nell'utilizzo dei prodotti e di essere anche innovativi. A volte in passato siamo stati un po' umili e un po' resti a rivendicare i nostri successi, a rivendicare le nostre capacità. Questa volta l'abbiamo fatto con forza, con coerenza e siamo orgogliosi finalmente di aver ottenuto un risultato anche sancito con questo decreto.